Procedono i lavori presso il Palacossiga che a breve sarà trasformato in hub vaccinale. Questa mattina è arrivata già la ditta che si occuperà degli allestimenti e i lavori verranno consegnati entro venerdì mattina. Si prevede l'installazione di 33 box tra accoglienza e postazioni per la somministrazione dei vaccini. 60 posti a sedere tra accettazione e pre-anamnesi, 21 punti vaccinali e 58 postazioni tra registrazione della somministrazione e attesa post-vaccino, il tutto collegato da un unico percorso circolare di accesso ed uscita dalla struttura. Il Palacossiga cambia definitivamente volto, andando così incontro alle nuove priorità legate alla pandemia. In un lasso di tempo strettamente necessario, infatti, il Palazzetto dello Sport è stato ristrutturato e adeguato ad hub vaccinale, così da consentire una maggiore somministrazione quotidiana delle dosi di vaccino. In tempi celeri abbiamo ristrutturato, riqualificato, ripulita tutta un'area, oltre che il Palazzetto dello Sport che ha, come dire, con i lavori che sono stati fatti a un nuovo restyling, consentitemi di dire, già pronto per poter essere arredato e adeguato a poter fare questo hub vaccinale di respiro regionale, dove si faranno centinaia e centinaia di tamponi e di vaccini ogni giorno, cosa alquanto importante sempre e non soltanto per la comunità locale, perché, ripeto, è di respiro regionale, questo hub vaccinale, e anche di questo, consentitemi di dire, con un pizzico d'orgoglio, è frutto dell'impegno, del lavoro e dell'attività che questa amministrazione sta facendo in sintonia con la Regione che ha individuato, o con il Comune di Gela, questa struttura per poter ospitare questo hub dove si faranno, ripeto, tutti questi vaccini quotidianamente e si darà la salute e la vita ai nostri concittadini e anche a cittadini del circondante. Da ieri inoltre è entrata in vigore l'ordinanza firmata dal sindaco Lucio Greco, con la quale si dispone l'attivazione della didattica a distanza per tutti quegli istituti scolastici in cui saranno effettuati gli screening. Considerato il tempo necessario per l'elaborazione dell'esito del tampone molecolare, la didattica frontale sarà sospesa per almeno tre giorni. Questo servirà a monitorare e a verificare ancora meglio quella che è la situazione dal punto di vista della curva dei contagi nel mondo della scuola, per fare chiarezza in linea definitiva, rassicurare le mamme che giustamente continuano ad essere in ansia, in preoccupazione, dovendo mandare i bambini e i ragazzi nelle scuole, con il dubbio che ovviamente possono contagiarsi e quindi trovo legittima e trovo giusta questa preoccupazione delle famiglie. La linea del contagio continua a salire, tuttavia una maggiore somministrazione delle dosi di vaccino e un incremento degli screening potrebbe consentire un migliore monitoraggio dell'evolversi della diffusione del Covid in città.